In questa serie abbiamo Simone Girotti, Maurizio Pistillo, Matteo Bruggini, Massimo Malvicini, Angelo Mauri, Paolo Fietta, Federico Beretta e Gianluca Madia. È la sesta serie. All'è Massimo! Lo spettacolo della velocità l'arena. Dai, applaudiamoli tutti. All'è, forza! Così a 1 per una frecciata da Pro Sesto, Simone Girotti, 24-80 per lui.